E allora un ultimo sms. Ciao Vino, secondo dati statistici, in Italia ci sono oltre mezzo milione di cani randaggi, portatori di malattie infettive e parassitarie. Secondo te non sarebbe meglio abbatterne queste bestie come hanno fatto i nostri amici in Ucraina? Anche per la salvaguardia dei nostri figli, il Papa di Irene. Il problema va preso alla radice, chi è che ha permesso a tutti questi cani randaggi di andare in giro in tutti questi anni? Perché se non sono sempre postuti tutti, magari c'erano i soldi per provvedere, per fare altri canini, per provvedere a questi poveri animali e si sono rubati anche quelli probabilmente. Ieri Adam, Adam Huge, dei Beastie Boys, ha 47 anni, per un cancro ci ha lasciato anche lui. Amen. Riposa in pace. Jack! Ciao Grande Pino, complimenti per il tuo nuovo pezzo Angus Day, è bellissimo, un bacio sei grande Marianna da Caserta. Grazie Marianna. A proposito ragazzi il nuovo album sta avendo delle ottime recensioni, anche dal vivo, anzi grazie a voi che sabato eravate a Bolzano, al nuovissimo rock'n'roll, il nuovo rock'n'roll del nostro mentore Davidone. E questo locale è veramente una figata ragazzi, voi del Bolzano e della provincia frequentate questo locale, frequentatelo perché è veramente una figata. Grazie.